Ciao ragazzi, mi chiamo Sherif Ghanem, vengo in Egitto, ho 31 anni, sono dentro il carcere quasi sette anni o qualcosa, ho pensato con questo errore, quello che ho fatto prima e faccio un progetto di informatica di saldatore, per il futuro anche per domani, per autorizzare il mio sogno, quello che ho sempre pensato quando ero giovane, ho cominciato il lavoro con questo lavoro quando avevo 11 anni, fino ad arrivare qua e lavorare un po' di tempo con saldatore, ho guadagnato anche esperienze da questo lavoro, anche per me la saldatore è una cosa d'arte, è un lavoro di cuore, perché quando lavoro questo lavoro bisogna pensare cosa fare domani, il futuro, quella cosa, idea in fuga, questo progetto mi è piaciuto perché è una cosa positiva, perché domani quando tu pensi a fare qualcosa di positivo posso aiutare l'altro, quello che è arrestato senza lavoro, senza questa cosa, domani quando qualcuno pensa a fare qualche lavoro, domani quando esci posso lavorare, posso trovare un posto di lavoro fesso, perché l'idea di questo lavoro di un fuga è piaciuto, per me è una parte positiva di quella cosa, ha fatto capire un po' di cose, anche con la borsa, andare al lavoro, rimanere con la gente, parliamo del lavoro, parliamo di cosa posso fare domani, questa cosa.